Rodolfo Rombaldoni, si riparte, sei una delle poche certezze, nel senso che sei uno dei pochi confermati dallo scorso anno? Sì, si riparte con tanto entusiasmo, la squadra è nuova, io ne conosco alcuni, ecco, è come un po' ripetevo prima, quando ti succedono le cose nella vita, è sempre la prima volta, non sai quello che ti succede, comunque lo si affronta con tanto entusiasmo, spirito di sacrificio e vediamo cosa succede. Che campionato ti aspetti e soprattutto che categoria ti aspetti? Mi aspetto rispetto all'anno scorso a un livello superiore, squadre più forti, più attrezzati, due americani che giocano su cinque, cioè cinque nel quintetto, alzano tanto il livello, quindi bisogna darci sotto, lavorare e stare al loro passo. Salvarsi, che è l'obiettivo dichiarato del Presidente, vuol dire equivale a una promozione, visto la rivoluzione poi che ci sarà il prossimo anno? Certo, non c'è niente da dire, l'unica cosa è che non bisogna dare niente per scontato, non è che adesso basta salvarci, salvarci vuol dire stare lì, allenamenti, sacrificarsi per la squadra, non è semplice, ma non c'è niente di semplice. Quali saranno le caratteristiche fondamentali e principali del Bacchere del prossimo anno? La squadra ancora deve conoscersi, bisogna vedere le qualità, come poter giocare, quello ci penserà l'adonatore, sicuramente la base sarà emozioni, far divertire il pubblico, poi l'appetito viene mangiando, quindi vincere aiuta anche al morale, avanti così.